classificata Luisa Viola adesso chiamo collega che va in finale la numero 3 Ilaria Fuschini collega che va in finale chiamo la seconda diciamo la seconda persona che va in finale Anna Buonavolontà quindi la quarta classificata facciamo un applauso e Anna Vuoto quindi va in finale la numero 6 Federica Redi allora il mio intervento è finito lascio alle azzurre del Napoli ah più dietro ragazzi andiamo più dietro siamo oscure c'è la luce lascio alle azzurre del Napoli la programmazione del vincente di Missa Azzurra allora prima di dire chi sarà la Missa Azzurra del Napoli 2011 vorrei qui con noi Ada Costantino co-conduttrice di Golden Goal le due ragazze gentilmente al centro e gentilmente vorrei sempre qui con noi tre ragazzi avanti allora le tre ragazze avanti scusate e qui con noi vorrei anche Missa Azzurra del Napoli 2010 la nostra piccola aiutante con la coroncina di Memè Creazioni aiutala allora Miss Azzurra del Napoli 2011 è Federica Redi Grazie 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 Sei contenta di essere arrivata prima di Sì stanno in tempo però non riesco a parlare scusate Da quanto tempo avete iniziato questi graduatori questi canali questo confusso da settembre figurati da 4-300 poi da 2-60 e poi da 70 15 e poi da 15 8 e poi una bella scalata una bella scalata quindi ma ci speravi lo sognavi ma diciamo che io tendo più a non credere così non ci rimango male alla fine però giustamente il desiderio c'è sempre sbagli perché bisogna sempre credere così si riesce grazie